Non vi sentite in colpa per i messaggi che mandate? Ma in colpa di cosa scusami? Qual è la colpa? Spiegamela tu Spiegamela che tu puoi Diffondere una dipendenza Dipendenza, che oggi il 99% degli italiani di qualsiasi età da maggiorenni Non consideriamo i minorenni che giocano anche i minorenni Dai maggiorenni fino a quelli di 90 anni giocano tutti E magari giochi anche te che mi stai parlando O sbaglio? Hai mai giocato tu? Rispondimi No, sbagli completamente Eh certo, sei il classico moralista Oggi il 99% degli italiani giocano tutti Lì vedo gente, vecchiette di 60 anni, persone di 50 Tutti che giocano, gratte e vinci, il suo penalotto, quello in diretta Quindi la colpa è mia?